Ciao a tutti ragazzi sono GiltiaTV, in questo nuovo video vi annuncerò una cosa importantissima che la Rockstar ha aggiunto nel gioco, cioè ha aggiunto appunto questo specie di sistema di controllo che appunto leverà le parti invisibili dai corpi, quindi ragazzi per tutti quelli che hanno un account moddato non potranno più utilizzare i completi che hanno ad esempio braccia invisibili oppure corpo invisibile perché il tutto verrà rimpiazzato da un paio di pantaloni e una maglietta, ad esempio qui come potete vedere anche in gameplay lo mostra per qualche secondo e dopo di che compaiono maglietta e pantaloni e scarpe, ovviamente ragazzi non succede sempre con quelli che hanno il completo a scarpe, infatti come potete vedere qua non succede nulla ma semplicemente con le parti invisibili del corpo, quindi ragazzi questo video era per informarvi di questa cosa, di stare attenti, di non salvare, di non cancellare i completi moddati perché a breve molto probabilmente uscirà un glitch su come tenere i completi moddati quindi ragazzi vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo al prossimo video